Musica Cresce tra i medici italiani la voglia di tenersi sempre aggiornati, anche sfruttando le nuove tecnologie. A testimoniare questa sete di informazioni è il boom di iscrizioni a Dr. Slife, il primo canale TV al mondo dedicato all'informazione e alla formazione medico-scientifica interamente gratuito. Il canale, edito da ADN Cronos Salute, ha infatti superato i 50.000 iscritti, distribuiti in modo omogeneo su tutta la penisola. Per l'esattezza sono 50.200 i medici che ad oggi hanno deciso di informarsi e aggiornarsi attraverso Dr. Slife, canale 440 della piattaforma Sky. Un vero e proprio boom di iscrizioni, considerando che in base ai dati dell'EMPAM, l'ente nazionale di previdenza dei camici bianchi, i medici in attività sono circa 300.000. Il canale, in onda da quasi due anni, ottobre 2011, oltre ai corsi ECM gratuiti, offre un telegiornale quotidiano e due magazine settimanali di approfondimento sui principali fatti scientifici, di politica ed economia sanitaria. E ancora, inchieste, focus e reportage sulle più importanti questioni mediche nazionali ed internazionali. Inoltre, ad arricchire il palinzesto anche diverse serie di documentari, con la partecipazione di grandi scienziati internazionali e fiction medico-scientifiche. Grazie